Immagina di incontrare te stesso a 16 anni. Cosa penserebbe di te? Sono cambiato così tanto? Del tuo lavoro? Delle tue abitudini? Voi del futuro siete ossessionati da queste cose? Di quello che mangi? E della tua auto? Cintura? Prendilo fiero di te. Nuova CLA Shooting Brake. Scrivi tu le regole. Scrivi tu le regole.